I'm so excited about I get a chance Roberto sei seduto insieme a loro due Siedi un attimo Roberto di qua No per favore Roberto con lo secondo centro Ha detto stampa per favore Lì si esce un attimo tra loro due Cosa? C'è un posto lì Si esce un attimo tra loro due No ha detto stampa davanti Ragazzi per contesia via però Ok ok grazie Roberto ancora centro grazie Una appoggio insieme grazie Roberto in fronte a te In fronte a te Kelly Roberto grazie ancora centro Don't kill nobody here Kelly Roberto grazie Ok Roberto grazie Ok Ok